Benvenuti cari telespettatori Benvenuti cari telespettatori di Rossini TV per questa nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine L'unico approfondimento sul territorio di Vallefoglia e i comuni limitrofi Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione Alla email vallefoglia-rossinitv.it oppure alle nostre pagine social presenti su Facebook e su Instagram Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine che apriamo approfondendo la questione relativa al degrado presente in una zona di Apsella Che settimana scorsa c'è stata segnalata da un cittadino Delle problematiche che ha cercato di chiarire il vice sindaco di Montelabate A nemmeno sette giorni di distanza siamo tornati qui nel centro commerciale a fianco di via Apsella Per questionare sui problemi riscontrati da un cittadino che da poco è residente nella zona Problematiche come quella della GRU in uno stato avanzato di arrugginimento Quella del centro commerciale che presenta numerosi negozi vuoti Ma anche quello del silos che è sempre in una fase di degrado Questo è anche il problema di un'asfaltatura che potrebbe essere risistemata Problematiche che abbiamo riportato al vice sindaco di Montelabate Luca Faroni Questo centro commerciale è nato male dall'inizio perché i proprietari hanno subito avuto problemi legali Soprattutto per la parte del supermercato e quindi non hanno potuto avviare l'attività Che è stata ceduta ad una multinazionale tedesca che ha sempre pagato l'affitto fino a quando non è fallita Fallito questa società commerciale che non aveva mai aperto La proprietà è diventata del medio leasing che è rientrata nel fallimento di Banca Marche E quindi a sua volta il fallimento tutto in tribunale Adesso quando la nuova proprietà che è Ubi Banca riuscirà a avere la disponibilità dei locali Potrà metterli all'asta e quindi poi avere la possibilità di eventualmente trovare qualcuno che sia disponibile ad acquistare E speriamo anche di aprire Un altro dei problemi di questo centro commerciale è che ha un regolamento che è molto restrittivo E quindi le attività che vogliono aprire spesso si trovano a dover affrontare delle questioni legali Prima ancora di dover aprire quindi gli passa la voglia prima ancora di affrontare altre problematiche per aprire qua E poi anche c'è il problema degli affitti perché sempre tornando all'area destinata al supermercato Avevamo trovato un imprenditore di Rimini che era disponibile ad aprirci un luogo da ballo Però poi dopo con gli affitti che gli venivano chiesti ha preferito aprire a Rimini che pagava molto meno Invece per quanto riguarda la GRU qual è la situazione? Il privato deve per forza intervenire oppure comunque è libero di fare quello che crede? Il comune che potere ha in questo caso invece? Il privato deve rispettare la normativa che però non è il comune direttamente il responsabile delle normative Che sono quelle della sicurezza sul lavoro perché i controlli li fa l'ispettorato Il comune alcuni anni fa aveva fatto fare delle verifiche su tutte le GRU del comune Alcune che non erano in regola sono state smontate Quindi il comune dove può riesce ad intervenire però non direttamente ma solo su indicazione del comune In caso di imminente pericolo o pericolosità Altrimenti rispetto poi al privato decidere se ha possibilità di tenerla su se è tutto in regola Oppure se lo utilizza e quindi gli serve per i lavori che deve fare Sono stati tanti commenti che hanno lamentato anche lo stato di degrado della strada Che passa anche per il centro di Apsella Potreste intervenire invece? Su alcuni tratti abbiamo già in previsione di fare degli interventi a breve Quindi abbiamo già la disponibilità di alcune decine di migliaia di euro Che verranno investite in un tratto all'ingresso del paese E il tratto è una breve salita che ha diverse buche Quello lo sistemeremo nel giro di poco Invece sul silos qual è il punto? Il silos anche quello rientra in un'area privata Quindi poi dopo vanno fatte le opportune verifiche O con una segnalazione o adesso mi interesserò direttamente in comune Per verificare com'è la situazione che al momento non la so insomma Vorrei ricordare a tutti i cittadini di Montelabate che è disponibile un'app gratuita Che si chiama Comunichiamo Con la quale si possono fare delle segnalazioni direttamente al comune Per sollevare alcune questioni o anche per indicare alcune problematiche Il comune viene subito a conoscenza del problema Ed è arrivata la sentenza per il padre del baby calciatore Che in occasione del torneo di calcio di Pasqua svoltosi a Gabice Aveva aggredito l'allenatore della squadra avversaria D'aspo per due anni Questo recita il provvedimento emesso dal questore di Pesaro Urbino Che di fatto vieta al genitore di accedere agli impianti Dove si svolgono eventi sportivi per i prossimi 24 mesi Il fatto risale al 18 aprile giorno di Pasquetta Quando a scendere in campo nel torneo tra esordienti Under 14 C'era da una parte la nuova accademia calcio di Terni E la polisportiva Ponte di Nona Per motivi legati alla partita Il padre del piccolo giocatore aveva prima scavalcato la recinzione E poi avvicinandosi all'allenatore Umbro Lo aveva colpito con un pugno facendolo cadere a terra Prendendolo poi a calci Facendolo finire in ospedale E ci sono importanti novità per quanto riguarda il procedimento dei lavori Sia per la costruzione della nuova sede municipale a Montecchio Che del nuovo cinema, teatro, auditorium per la musica, bottega A Montecchio la ditta che sta lavorando alla costruzione del nuovo municipio Dopo aver terminato il montaggio dell'ascensore e dei controsoffitti Sta installando i nuovi infissi in alluminio Per proseguire poi nei prossimi giorni Con la sistemazione delle aree esterne Per la realizzazione dei parcheggi e della nuova piazza A bottega l'impresa che sta invece edificando il nuovo teatro Dopo aver effettuato lo scavo Sta effettuando la gettata di calcestruzzo dei pali Di fondazione della struttura Che sarà realizzata con elementi prefabbricati in cemento armato E a Montecchio i valori del 25 aprile Sono stati anticipati il 24 di aprile Aprendo al pubblico un luogo simbolo della seconda guerra mondiale Ovvero un bunker scoperto qualche mese fa Vediamo Un bunker che riesuma il passato Ma che sa tanto di futuro Dopo mesi di lavori e scavi A Montecchio di Vallefoglia È stato ufficialmente inaugurato il bunker tedesco Risalente alla seconda guerra mondiale Accogliendo sin da domenica 24 aprile Numerosi cittadini curiosi di quello che la storia Può ancora offrire al territorio Presenti numerose associazioni Come quella dei reduci e combattenti di Montelabate Rappresentata dal presidente Antonella Terenzi La quale è stata di grande aiuto nella scoperta di questo cimelio Sono felicissima oggi di essere qua In questa bellissima giornata di pioggia Ad aprire questo bellissimo bunker Il primo bunker sulla linea gotica Quota 90 Un tragitto che faremo Che porta a Quota 204 Questa è la prima postazione Poi passeremo chiaramente a Quota 111 Dove oggi ci sono le bandiere E che abbiamo recuperato tempo fa Fino ad arrivare a Quota 204 È un avvenimento bellissimo questo Abbiamo lavorato come dei pazzi Abbiamo scavato come delle talpe Compreso i ragazzi che sono qui con me Andrea che ha buttato giù la porta Ma nonché i miei prodi Bruno Livi E Lorenzo Tagliaferri Sono dei grandi Perché questa è la squadra Chi ha permesso l'ingresso a questo bunker Oltre alle macchine Della Mulazzani G&G E della Faircamp Costruzione Sono state le braccia Lo terremo aperto Nelle giornate che non vorrà Metteremo a disposizione I nostri numeri di cellulare Perché la storia comincia da qui La storia comincia da qui dentro Qui dentro c'erano i tedeschi Sono stati annientati Prima di tutto dai montechiesi La storia narra che Un montechiese è riuscito Con il suo temperamento A far fuori un tedesco A cercarlo di mettere Nella condizione di non nuocere Perché poi il governo L'esercito inglese Potesse poi metterlo In stato di sicurezza E poter poi continuare L'avanzata sulla linea gotica Grande merito va dato sicuramente Al fotografo Bruno Livi Vero scopritore di questo bunker Che per prima ha spulciato Tra vecchi ricordi e racconti Dopo un'oretta di ricerche L'ho trovato Ho telefonato a lei Che è andata dentro subito A vedere come era Messo dentro Proprio in un buchino Da quel giorno È stato tutto Più bello Ci siamo impegnati tanto Però con soddisfazione Una scoperta Che ha visto il prezioso supporto In questi mesi Da parte degli speleologi Di Urbino E dell'archeologia militare CRB 360 Che hanno effettuato Ricerche Scavi Studi sulla storicità Di questo bunker E compreso quali funzioni avesse Questo è un bunker Denominato WF Questi bunker esistevano Per dare supporto A postazioni di fuoco Più importanti Cioè bunker ricovero Dove il soldato Finito il turno di guardia Si andava a riposare Si riposavano O qui oppure Nelle case private Dei contadini O della gente Che abitava qui attorno E quando non c'era necessità Di stare Nella fortificazione Nella trincea principale Poteva tenere Dalle 4 alle 8 persone Questo in particolare Pensiamo 6 Ancora non siamo stati in grado Di definire il modello preciso Questo è un supporto Come ho detto Non è un bunker principale I muri sono più piccoli Se vogliamo dire Infatti è probabile Che non sia neanche armato Un ritrovamento importante Che potrà diventare Anche una meta turistica Per il futuro Diventa fruibile Sia dal punto di vista Storico e culturale Sia del messaggio Contro le guerre Per noi è importante Ci hanno lavorato in tanti L'associazione Redici Combattenti L'amministrazione comunale Le imprese private Tanti volontari Quindi è un fatto importante Stiamo lavorando Insieme alla provincia E gli altri comuni Per fare un percorso Di tutti i bunker Della linea gotica E quindi speriamo Quanto prima Di poter dar seguito A questa inaugurazione Di oggi E dopo l'apertura Del bunker L'Unione dei Comuni Di Pian del Bruscolo E il Comune Di Montelabate Hanno celebrato Il 25 aprile Al cimitero Dei Caduti Di Montecchio Dove riposano Ben 582 Caduti Alleati Presenti le principali Autorità amministrative Dell'Unione Accompagnate dal Picchetto d'Onore Dal 28esimo Reggimento Pavia Dai corpi bandistici Giovanni Santi Di Vallefoglia E Gioacchino Rossini Di Montelabate Nonché Dall'esebizione Dei Cantori Della Città Futura E dalla Danza Della Pace Eseguita dal Corpo Di Ballo Center Stage Danza Pesaro E a precedere Le celebrazioni Di Montecchio Sabato 23 aprile A Tavuglia Tante sono state Le persone Che hanno partecipato Alla cerimonia Che si è tenuta Al monumento Ai caduti canadesi Sulla linea gotica Inaugurato Nel 1997 L'orchestra incontro Composta dai ragazzi Della scuola media Di Pian del Bruscolo Ha fornito L'accompagnamento musicale A tutto l'evento Chiudendo con L'esecuzione Dell'inno Dell'Unione Pian del Bruscolo Valori Del 25 aprile Sottolineati Nell'occasione Dalla vice sindaca Di Tavuglia Laura Macchini Dal sindaco Di Vallefoglia Palmirucchielli Dalle consigliere Comunale di Pesaro Luca Di Dario Dall'assessore Di Gabice Rossanna Biagiotti Dalle responsabili Ampi Tavuglia Maurizio Rossi E dalla presidente Provinciale Dell'associazione Combattenti Ereduci Antonella Terenzi E parliamo Ora di vista In particolar modo Di ortocheratologia Un particolare Tipo di lenta Contatto Che utilizzate Durante il sonno E tolte la mattina Dopo il risveglio Consentono un recupero visivo Per tutto il giorno Vediamo Roberto Quindi siamo qui Per parlare Di lenti ortocheratologiche In che cosa Consistono Consistono In un trattamento Notturno Con delle lenti Semirigide Applicando la lente Tutte le sere Prima di andare a letto La mattina Posso togliere Le lenti a contatto E senza utilizzare Né occhiali Né altri tipi Di lenti a contatto Vedere tutto il giorno Un sistema Innovativo Non tanto Visto che sono Tanti anni Che vengono utilizzati In altri paesi Ma che anche qui Finalmente stanno Prendendo piede Io ho tanti colleghi Che fanno ormai Queste applicazioni Da oltre dieci anni Così come qui Da noi Dal 2017 Che applichiamo Questo tipo di lente Con un discreto successo Perché ad oggi Il risultato è ottimo Soprattutto quando Abbiamo a che fare Con giovani miopi La cosa positiva È poter rallentare Il peggioramento miopico Se non addirittura Fermarlo Perché in termini percentuali Il successo di blocco Della miopia È abbastanza elevato Ma soprattutto Dare ai giovani miopi O comunque ai miopi In generale La possibilità di vedere A 360 gradi Tutto il giorno Senza nessun tipo Di ausilio visivo Quindi né occhiali Né lenti a contatto È una lente Che appunto Fa un trattamento Di schiacciamento Sulla cornea Quindi sostanzialmente Noi andremo a creare Su una cornea standard Un appiattimento Come se fosse Un intervento chirurgico Senza fare un intervento chirurgico Quindi lo stesso effetto Del laser Con la differenza Che possiamo Una volta smesso Il trattamento Tornare alla cornea Alla normalità Della cornea Ecco allora perché Un ragazzino Comunque un adulto Dovrebbe prediligere Questo trattamento Di questa lente Anziché L'operazione Prima di tutto Il giovane miope Stiamo parlando quindi Di ragazzini di 12 13 14 10 anni che sia Ancora non sono operabili Quindi Il trattamento Orto-creatologico Potrebbe far sì Che lo stesso ragazzino Che oggi ha Ipoteticamente Una miopia di meno 2 Possa arrivare In età operabile Comunque con una miopia Di meno 2 O che sia di 2 25 Un ragazzino Che oggi ha 6-8 anni E ha una miopia Di meno 2 Si presume Che a 18-22 25 anni In età operabile Non abbia più Meno 2 Ma abbia anche Meno 5 Quindi riuscire a rallentare Il peggioramento Miopico Oggi vuol dire Poi affrontare Un domani Un discorso chirurgico Con dei numeri diversi Dal 2017 ad oggi Come si sono trovati Coloro che sono Sottoposti a questo Trattamento Allora sicuramente Il boom Negli ultimi due anni Dal 2020 Post pandemia Insomma ad oggi La percentuale Altissima di successo Nel senso che Sono quasi tutti Ragazzini che vanno Tra i 10 E 15 anni Nessuno ha avuto Problematiche Di rigetto Nel tanto meno Fastidi da Non poter continuare Il trattamento E tutti ancora oggi Vanno avanti Senza occhiale E senza lente a contatto Quindi Estremamente soddisfatti Perché comunque Possono fare sport Comunque possono andare a scuola Il problema dell'occhiale Con la mascherina In questi anni Loro non l'hanno vissuto Perché andavano Tranquillamente a scuola Con la mascherina Ma senza Necessità di utilizzare Lenti a contatto Occhiali Quindi assolutamente Un ottimo successo E una percentuale Altissima Di risultati ottimali Questo trattamento Può essere rivolto A tutti Oppure no Il trattamento Che utilizziamo noi Che è un trattamento Paragon CT È rivolto Esclusivamente Ai soggetti miopi Dai 0 a meno 6 Sostanzialmente Più è bassa La miopia Sicuramente Maggiore la percentuale Di successo E anche la facilità Di trattamento Maggiore sarà La miopia E più lungo Sarà il trattamento Però fondamentalmente Da 0 a meno 6 Si dovrebbe riuscire A trattare Senza grosse problematiche Però è ovvio Che è sempre Tutto soggettivo Bisogna prima Essere sottoposti A tutta una serie Di analisi Qui da noi Dove valutiamo Lo spessore della cornea Valutiamo il tipo di cornea Dopo si decide Se procedere O meno E passiamo ora A parlare Di attività fisica Dato che Venerdì 6 maggio Alle ore 21 Presso la sala Consigliare Delle comune di Tavuglia Verrà presentato Il progetto Sentieri storici E naturalistici Del comune di Tavuglia Dei percorsi pedonali All'interno del comune Che permetteranno Di godere In tranquillità Delle bellezze Paesaggistiche Del territorio Si parte subito Il giorno dopo Sabato 7 maggio Con la camminata Del Belvedere Una vera escursione Storico-culturale Che avrà luogo Nella località Di Belvedere Fogliense Per l'occasione Fa sapere L'amministrazione Verrà inaugurato Alle termini Della passeggiata Il nuovo selciato Del centro storico Della stessa Belvedere Fogliense Completato Una settimana fa E restiamo sempre A parlare Di attività fisica E di sport Dato che Nella pista polivalente Di via Carpegna A Montecchio Nella zona grotte Il comune di Vallefoglia Ha posizionato Due nuove porte Da calcetto E un tavolo in legno Completo di panche Le nuove porte Da calcetto Sono state installate Per venire incontro Alle numerose richieste Pervenute Da parte di bambini E ragazzi Residenti Che giornalmente Si ritrovano Nelle piazzali Interessato Per praticare Un po' Di sport E trascorrere Insieme Del tempo libero All'aria aperta Nello stesso luogo È stato anche sostituito Il vecchio tavolo in legno Ormai logoro Con uno nuovo Completo di panche Di seduta Per le esigenze Dei più grandi E concludiamo Con il calcio locale Nel campionato Di eccellenza Infatti è arrivata Un'ottima vittoria Per l'atletico Gallo Che di misura Sul campo Del già retrocesso San Marco Servigliano Si è imposto Per un a zero Gallo Che rimane Saldamente tranquillo Tre giornate dal termine Arrivando a quota 42 punti A più 8 Dai play out E a meno 5 Dai play off Chi crede Concretamente Ai play off È invece Il Valfoglia Che con il successo Per 3 a 2 Contro la seconda In classifica Della Vigor Castelfidardo Si trova al quarto posto A sette giornate Dalla fine Sconfitta pesante Invece per il Capasporte Montecchio Che si fa rimontare In casa Dalle portuali Calcio Ancona Perdendo poi Nettamente La partita Per 4 a 1 Vedendo ora I play off Allontanarsi ulteriormente Play off Che si avvicinano Invece Per uno sterea Nuova da urlo Che sabato In casa Dell'atletico Tavuglia Ha portato via Tre punti fondamentali Per proseguire La sua rincorsa Ai piani alti Della classifica Osteria Nuova Che ora è a 39 punti Mentre il Tavuglia Scendendo al terzo posto Restando a 41 punti Si ritrova a meno 3 Dalla primatista Sant'Orso E con lo sport Si conclude Questa nuova edizione Delle Valle Foglie Ai Pian del Bruscolo Magazine Non mi resta Che ringraziarvi Vi rinnovo L'appuntamento Venerdì prossimo 6 di maggio E vi auguro Un buon proseguimento Di serata E vi auguro Un buon proseguimento Di serata E vi auguro Un buon proseguimento Un buon proseguimento Un buon proseguimento